Grazie, grazie Gianni Ruffini e avevo omesso di salutarla, ma lo faccio adesso, la senatrice Elena Ferrara che ringrazio di essere qui. C'è anche tra gli altri Massimo De Angelis che per conto di Amnesty International sta curando un TG2 dossier dedicato ai 40 anni di Amnesty International Italia che ci accingiamo a celebrare, lo faremo in maniera particolare e già sin d'ora vi diamo appuntamento a 17 aprile, giorno in cui inizierà la nostra Assemblea Generale. Ora, abbiamo un grande piacere di averlo con noi, quindi vorremmo che lo ascoltaste un ospite, un attivista per i diritti umani, un caro amico di Amnesty International che si chiama Aless Belaschi, che invito qui a raggiungerci. Prego e chiedo anche a Liliana se si mette, vuoi mettervi qui vicino a lui? Puoi stare qui vicino a lui? Intanto vi dico brevemente chi è Aless, è il presidente di un'organizzazione non governativa della Bielorussia che si chiama Vyasna, è tradotto in italiano a primavera, lotta contro la pena di morte, la tortura e altre violazioni dei diritti umani in Bielorussia, presta assistenza legale, finanziaria ai prigionieri politici e ai loro familiari. Aless è vicepresidente della Federazione Internazionale dei Diritti Umani, studioso di letteratura bielorussa e fa parte dell'Unione degli Iscrittori della Bielorussia. È stato arrestato nell'agosto del 2011, condannato nell'ottobre dello stesso anno a quattro anni e mezzo di carcere per accuse pretestuose, infondate. L'unico motivo era quello di mettere a tacere una fastidiosa voce del dissenso nei riguardi del regime del presidente Lukashenko. Il suo arresto venne condannato dalle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa, Amnesty International, Lodottao, come prigioniero di coscienza. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel 2013 gli ha assegnato alla prima edizione il premio Havel per i diritti umani. Tutte queste pressioni hanno fatto sì che Aless uscisse dal carcere il 21 giugno del 2014, con anticipo e rispetto alla condanna dopo aver scontato poco meno di tre anni di prigionia e non avrebbe dovuto trascorrere neanche un secondo in carcere. Aless sta facendo un tour in Italia e oggi ha incontrato funzionari del Ministero degli Affari Esteri ed è con noi questa mattina per darci un breve saluto. Parlerò in russo. E' un grande honore per me essere qui con voi durante la presentazione del rapporto annuale dell'Amnesty International. Non è stato benificato durante il nostro viaggio. Mi fa piacere che ancora nel rapporto precedente ero sulla lista di prigionieri politici e adesso mi trovo dall'altra parte. Ho scontato tre anni di carcere e ho ricevuto decine di migliaia di cartoline e lettere da tutti i membri dell'Amnesty International e da tutto il mondo. C'erano i giorni quando ricevevo più posta io che altri duemila detenuti nello stesso carcere. E la situazione nelle carcerie in Belarussi è abbastanza difficile e tu stai sempre in situazione di stress e psicologico. La situazione nelle carcerie in Belarussi è molto difficile. Siamo sotto costante stress e pressione. Ma quando ogni giorno leggevo le frasi come Alessi siamo con te, Alessi tieni duro, eccetera, ovviamente tutte quelle condizioni mi sembravano un po' migliori. Abbiamo visto adesso un filmato e abbiamo visto quanti problemi esistono in mondo in questo momento e alla domanda cosa possiamo fare veramente per trovare una soluzione per tutto ciò. Credo che proprio l'indifferenza sia una risposta giusta. Sono stato rilasciato prima della scadenza della mia pena e grazie proprio a questa indifferenza, a questa solidarietà dalla parte delle comunità internazionali. Il Presidente Lukashenko ha ricevuto più di 100.000 firme per il mio rilascio e quindi ha dovuto rilasciarmi. Continuiamo insieme ai miei colleghi alla nostra società di combattere e di lottare per i diritti umani in Belarussia perché purtroppo non è cambiato niente dal momento quando sono stato rilasciato. Poi è l'ultimo paese in Europa dove ancora vale la pena di morte, dove le persone vengono giustiziate. Sono stato rilasciato, però ancora ci sono altri prigionieri politici e vengono negati altri prigionieri politici. Per questo motivo ci sono tantissimo lavoro da fare ancora per Amnesty International in Belarussia. La nostra situazione influenza in qualche modo tutta la regione attorno a noi. La Russia ha cominciato la guerra con l'Ucraina e decine, anzi centinaia di migliaia di persone subiscono personalmente la tragedia di dover spostarsi, di dover lasciare le proprie case, di avere qualcuno perso nelle proprie famiglie. L'Europa nell'ultimo momento è tornata al mondo bipolare e le autorità russe continuano a costruire il muro tra Russia e l'Europa. E nell'aria c'è un forte odore di guerra. E ovviamente dove c'è la guerra i diritti umani sono sempre nascosti. E in questo momento la voce di tutti indifferenti è molto importante. E soprattutto la voce dei difensori dei diritti umani dell'Amnesty International deve essere ascoltata. Grazie.